Presidente Di Porzio, siamo in un periodo di saldi che durano per 60 giorni, quali sono le vostre aspettative? Il comparto del commercio viene purtroppo da un periodo di crisi, con un calo del fatturato considerevole, e quindi i saldi rappresentano sicuramente un paliativo per cercare di recuperare un po' di liquidità investita nelle scorte e negli acquisti effettuati prima dell'inverno. Sicuramente io ritengo che i saldi non nascono come uno strumento di sostegno all'economia del commercio, ma nascono come uno strumento di smaltimento delle scorte, quindi questa è la loro funzione e questa deve rimanere. Però sicuramente rappresentano una boccata di ossigeno, soprattutto adesso in un periodo di grande crisi economica dei consumatori che hanno visto il loro potere di acquisto eroso dall'inflazione da un lato e dall'incremento della spesa energetica dall'altro, e quindi prendiamola come cosa positiva. Tuttavia bisogna sicuramente incentivare gli aiuti al commercio, perché vanno sostenute queste aziende che purtroppo attraversano un grande momento di difficoltà, anche magari introducendo alcuni strumenti che noi abbiamo suggerito all'amministrazione, alle amministrazioni, come i distretti del commercio, che determinano una riqualificazione delle aree urbane dove operano i pubblici esercizi e le attività del commercio, e anche una maggiore flessibilità dei modelli di organizzativi da parte dei commercianti e quindi magari andare incontro a quelle che sono le esigenze del turismo, rivedendo in qualche modo gli orari di apertura e di chiusura, magari lavorando anche le domeniche. Insomma, voglio dire, bisogna andare incontro al mercato, cioè non aspettare il mercato, ma cercare di andare incontro al mercato. A proposito di difficoltà dei cittadini per il caro energia, il potere di acquisto, difficoltà anche per le imprese, come giudica la legge di bilancio approvata dal governo? Sì, diciamo va nella direzione giusta, anche se io ritengo che appunto vadano messe in campo delle misure strutturali, cioè nel senso sicuramente i crediti d'imposta per la spesa energetica rappresentano una boccata di ossigeno per le imprese che comunque soprattutto nel periodo, nella scorsa estate, hanno visto le bollette addirittura quintuplicate rispetto alla spesa precedente e quindi va bene il credito d'imposta, però il credito d'imposta sono comunque dei soldi che le aziende poi devono anticipare, quindi bisognerebbe mettere in campo appunto delle misure strutturali che determinano un abbassamento definitivo e costante della spesa energetica e soprattutto che non determinano una spesa ulteriore per le imprese, questo è il concetto, e insieme a dei provvedimenti che tendono ad abbattere appunto il cuneo fiscale e quindi a incidere sulla capacità di spesa dei consumatori, perché sicuramente è innegabile che con un tasso di inflazione al 10% la capacità di spesa del salario di un operaio, comunque di un qualsiasi cittadino si riduce del 10%, quindi va recuperato questo gap, va in qualche modo restituito al cittadino quello che è stato il potere di acquisto eroso dall'inflazione, quindi il taglio sicuramente del cuneo fiscale rappresenta, quindi più soldi in busta paga rappresenta sicuramente uno strumento molto efficace da mettere in campo al più presto.